Ciao a tutti, io Michele è tornato per presentarvi una scarpa nuova, nuova nel modo di dire perché fa parte già della collezione Autuninverno 2018-2019 ed è una scarpa della collezione Adidas che è nata nel 1980, si chiama jeans proprio perché rispecchiava che la gente la metteva su di jeans ed è una scarpa molto pratica e comoda. Inizialmente questa scarpa qui, come vi faccio vedere la foto degli anni 80, è nata da Corsa, poi col passare del tempo l'hanno un poco rivista di poter nare ed è l'unica cosa che è rimasta intatta è la suola che presentava il tripoglio lunga la scarpa. Adesso viene fatta una versione tutta in pelle ed è ritornata ed è una scarpa che secondo me piacerà a tutti, ai giovani, ai meno giovani. Questa scarpa qua era nata da running, però è molto comoda da passeggio, come infatti già dal nome potete immaginare jeans, quando uno dice jeans dice vestibilità giornaliere, come uno si veste poi si mette un paio di sneakers di questo genere qua e va tranquillo, passeggia per la strada e sta comodo. Questa qui ve la facciamo vedere in anteprima perché, come vi ho detto prima, fa parte della collezione autunno-inverno 2018-2019. Noi già l'abbiamo disponibile nel nostro negozio in questa versione nuova. Questa negli anni 80 era fatta in tre versioni di coloro. Questa qui che vi faccio vedere è la foto che era tutta in sweat blu e verde, la seconda che poi era blu e rosse e la terza era verde e blu. Invece questa qui che vi proponiamo adesso è l'ultima colorazione che è un bel bianco con dei colori di verde molto intenso. Se la volete venire a vedere vi aspetto all'interno del prossimo video.